Carbone, bianco o nero? A chi lo diamo? I politici? Al sindaco di Vicenza? Beh, aspetta, ah beh, nero senz'altro, guarda, nero. E al sindaco di Vicenza? Eh beh, al sindaco di Vicenza dico bianco. Nero, 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 nero brutto per tutti, guarda. Beh, non so cosa dire contro i politici perché che sia di qua, di destra, di sinistra, di centro, di sotto, di sopra, vanno là per mangiare e basta. E al sindaco di Vicenza che carbone diamo? Beh, insomma, dai, grigio. Bella domanda questa. Nero, nerissimo, diciamo, come sta andando il mondo? Molto, molto nero, molto nero. Eh beh, d'altra parte hanno fatto il peggio del peggio negli ultimi trent'anni. Sicuramente lo darei a Mattarella. Carbone nero. Per piacere anche. E invece al sindaco di Vicenza? Può andare bene, dai. Un po' di misto carbone, carbone e qualcos'altro. Nero, nero, guardi. Nero senz'altro. E al sindaco di Vicenza? Lo stesso. A chi darebbe il carbone bianco, il carbone nero? Tipo, non so, politici, il sindaco di Vicenza? Ma, eh, carbone nero al sindaco di Vicenza. Perché? Perché in tanti anni ha fatto poco. Non sono scontento. Tante cose le ha fatte. Certo non poteva fare, secondo me, di più. Però gli darei non il carbone nero.